Furti e reati Irpini a blindata come disposto in prefettura. I controlli sono stati intensificati nel weekend e nei territori maggiormente attenzionati da bande malviventi in questi mesi in cui sono stati numerosi i reati segnalati. Nel corso dei servizi, nei quali sono state impegnate molte pattuglie, i militari della compagnia di Mirabella e Clano nella tarda serata di sabato a Sturno hanno fermato e proceduto al controllo di un'auto con a bordo due uomini. Per loro, entrambi già noti alle forze dell'ordine, è scattata immediatamente una perquisizione personale e anche a bordo del veicolo. Grazie al controllo approfondito i militari hanno rinvenuto in una cucitura dei pantaloni del 42enne alla guida del veicolo della droga. Nello specifico, l'uomo originario di Sturno è stato sorpreso dai carabinieri in possesso di quattro dosi di crack e cobretto. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio. La sostanza stupefacente, come anche l'auto, sono state sottoposte a sequestro penale. Sopralluogo al carcere di Bellizzi Irpino del sindacato di polizia penitenziaria USPP. Attenzione rivolta in particolare a quanto accaduto al carcere di Ariano, dove nei giorni scorsi è stato arrestato un agente in procinto di introdurre droga nel penitenziario. La richiesta è sempre la stessa, rinforzare gli organici che scontano una cronica carenza. E proprio ad Ariano Irpino in questione si sarebbe consumata l'ennesima aggressione ai danni del personale. L'emergenza sta diventando veramente importante e quindi chiediamo un'accelerazione di tutte quelle misure che debbono portare poi a un ripristino della dignità lavorativa ma anche della sicurezza vera e propria degli istituti. Sappiamo che c'è un allarme criminalità all'interno delle strutture penitenziarie e noi siamo preoccupati per i riflessi che ciò ha sulla sicurezza e anche sul rispetto della legalità e anche dei processi che poi sono riservati alla polizia penitenziaria, cioè anche la partecipazione all'attività di riduzione con una situazione del genere, insomma non si può parlare di recupero del reo. A pochi giorni dallo sciopero davanti al Mimit di lavoratori e sindacati dell'industria italiana Autobus di Flumeri il gruppo Seri Industrial vola in borsa dopo la conferma delle trattative con Leonardo e Invitalia per acquistare lo stabilimento Irpino. Il titolo della società casertana, attiva tra le altre cose nel mercato delle batterie per l'automotive è tra i migliori di piazza affari oggi, guadagnando l'8,78% a 4,7 euro. L'azienda alla vigilia, a mercati chiusi e su richiesta di Consob e Borsa Italiana ha reso ufficialmente note le discussioni con Leonardo e Invitalia per la sottoscrizione di un accordo di investimento volto all'acquisizione di una quota di maggioranza della società industria italiana Autobus quindi provvederà a fornire aggiornamenti all'esito delle interlocuzioni in corso. Seri sarebbe l'unica società ad aver presentato un'offerta per rilevare l'azienda con sedi produttive in provincia di Avellino e Bologna che tuttavia sta avversando in una situazione di crisi con necessità di liquidità per il rilancio, affermano gli analisti. I sindacati irpini restano contrari all'acquisizione e chiedono che il governo lasci interamente nelle mani del pubblico l'azienda. I termini dell'accordo per i lavoratori inoltre non garantiscono la tenuta occupazionale prevedendo il blocco dei licenziamenti solo per tre anni. Per questo si annuncia la ripresa della mobilitazione. Questa mattina il PM Antica Morra Catello Maresca ha incontrato gli alunni dell'Istituto Amabile per parlare loro di legalità. L'incontro con il magistrato si inserisce in un percorso di educazione e sensibilizzazione sul tema della legalità che la dirigente dell'Amabile porta avanti da tempo. Sono incontri che noi facciamo periodicamente proprio per insegnare l'educazione civica sul campo. Oggi più che mai è fondamentale parlare di questo. Il dottore è stato un grande rappresentante della lotta contro le organizzazioni camorristiche e soprattutto una persona di una grande sensibilità che manifesta anche attraverso i suoi scritti la fragilità di uomo che arriva poi a lottare contro il male. Chiaramente sì, questa è una ricaduta didattica notevole. Questi incontri sono frutto di prodotti finali che i ragazzi faranno, soprattutto in vista del capolavoro dell'esame di Stato, perché è opportuno che loro abbiano consapevolezza e contezza della realtà positiva o negativa che sia. Italia la Sanità è ancora al centro dell'attenzione nel sanno e il movimento civico per l'ospedale che lotta per evitare il depotenziamento del presidio ospedaliero Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata dei Goti torna sulla questione del pronto soccorso, dove si sta profilando l'ipotesi di una chiusura nelle ore notturne per carenza di personale. I cittadini rimarcano che esiste uno scollamento tra quanto si legge sui piani per l'ospedale e quanto realmente garantito per il servizio agli utenti e invocano che si proceda per mettere realmente in pratica il decreto 41-2019 che assicura la piena operatività della struttura. La situazione presso l'ospedale di Sant'Agata richiede una risposta immediata. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi o indecisioni e giunto è il momento di agire con determinazione. Rimarca anche il deputato di Forza Italia Francesco Rubano che ricordando le numerose iniziative in campo nell'ultimo periodo spiega che finora non si è ottenuto alcun riscontro soddisfacente. Rivolgersi direttamente a De Luca è diventata l'unica via percorribile. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo. Pertanto chiediamo un incontro urgente con il governatore per discutere delle questioni riguardanti l'ospedale di Sant'Agata. È giunto il momento di agire con determinazione e responsabilità per garantire la qualità e l'accessibilità delle cure mediche per tutti i cittadini. Riparte il forum dei giovani di Benevento. Dopo lo stop che si era registrato nelle scorse settimane infatti sono state riaperte le procedure per la ricostituzione. Ci sono già anche alcuni bandi regionali per poter avviare importanti progettualità. Tra una ventina di giorni daremo data ufficiale delle votazioni. Proprio stamattina giungono voci anche positive della regione Campania dove molto probabilmente ci saranno anche due finanziamenti che il forum potrà accedere e utilizzare come meglio crede all'interno della nostra comunità. Come amministrazione dobbiamo dare tutti i presupposti per poter lavorare bene per dare possibilità ai nostri giovani di rimanere qua sul territorio perché ribadisco essendo una piccola provincia mettere a supporto dei meccanismi importanti è il nostro obiettivo come amministrazione. Un pesce siluro di ben 2,43 m catturato da un pescatore professionista all'interno delle acque del fiume Calore in una zona alle porte di Benevento. Protagonista della cattura è stato Gianluca Muriello che alcuni mesi fa, poco lontano, aveva catturato un altro siluro di 2,6 m. Appassionato pescatore da anni si dedica alla pesca del siluro e anche sviluppatore di nuove tecniche per pescare questo tipo di pesce. Oltre mezz'ora di duro combattimento, intorno alle 19.30 il grosso pesce siluro è stato portato a riva grazie alle tecniche utilizzate e talvolta studiate dallo stesso Muriello che ora ha segnato un nuovo record. Sono sempre di più le persone e le associazioni impegnate nella cattura di questo tipo di pesce che purtroppo crea danni agli ecosistemi acquatici e per la sua vorracità distrugge la biodiversità, minaccia specie autoctone e altera gli equilibri naturali. A Pignataro Maggiore Totò e Pablo proprio non li vogliono. Sono i due pitbull responsabili dell'atroce attacco a Eboli contro il piccolo Francesco Pio D'Amaro di soli 13 mesi, morto per le ferite ricevute. La procura ha disposto il ricovero degli animali presso il canile Dog's Town di Pignataro, ma questo ha scatenato preoccupazioni tra i residenti. I due pitbull sono vissuti come potenziali killer. Secondo il protocollo Totò e Pablo saranno osservati per dieci giorni. Se venisse riscontrata la rabbia o una pericolosità confermata dai veterinari, saranno abbattuti. Tuttavia, le voci riguardanti l'eventuale eutanasia dei cani hanno già sollevato polemiche. Bancarotta fraudolenta, documentale e preferenziale, queste le accuse contestate nei confronti di tre persone destinatari della misura di divieto di dimora in Regione Campania e di esercizio dell'attività imprenditoriale per un anno. La Procura di Salerno, nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza, ha chiesto e ottenuto dal GIP anche il sequestro di un complesso immobiliare di 50 unità, tra appartamenti, uffici e negozi, di un bar, pizzeria e di soldi per un totale di 4 milioni di euro. Le Fiamme Gialle e Battipagliesi hanno ricostruito quella che, secondo l'accusa, è stata una sistematica attività di spoliazione del patrimonio societario. Prima della dichiarazione di fallimento, oltre alla sottrazione di parte dei libri e delle scritture contabili, era stato inoltre eseguito un pagamento di 240 mila euro a un creditore danneggiando gli altri. 18 cantieri attivi per un investimento complessivo di oltre 30 milioni di euro, altri 16 programmati con altri 41 milioni. Nel mezzo, altri 17 cantieri che sono in fase di affidamento per ulteriori 52 milioni di euro. Sono i numeri snocciolati questa mattina in un incontro organizzato all'Università di Salerno con il CPT, l'organismo che si occupa di sicurezza edilizia, occupandosi di effettuare sopralluoghi nei cantieri per garantire la sicurezza. Il confronto è stato l'occasione per il rettore Vincenzo Loia di fare il punto sui tanti investimenti che riguardano da vicino l'Ateneo, sia nella sede di Fisciano che per il campus di Baronissi. Un detenuto siciliano ha tentato la fuga dal carcere di Salerno scavalcando il muro dei passeggi e poi lanciandosi dal tetto della palestra. Lo rendono noto Orlando Scocca, coordinatore per la Campania Antonio Capezzuto, segretario generale Fippi CGL Salerno e Daniele Giacomiello, dirigente nazionale per la disciplina della funzione pubblica CGL e Polizia Penitenziaria, che accusano. Questi episodi non ci meravigliano più, ma senza assunzioni di agenti, la sicurezza negli istituti penitenziari sarà sempre più a rischio. Per Mirko Manna, coordinatore nazionale della funzione pubblica della CGL, Manca da anni una visione organica delle carceri, ma da questo governo arrivano solo soluzioni tampone, si preannunciano tempi estremamente difficili se non si assumeranno almeno 4.000 poliziotti nei prossimi due anni. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS